Daniele, oggi era importante tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive per tenere aperta la speranza di raggiungere l'obiettivo play-off e così è. Sì, abbiamo fatto due sconfitte purtroppo, dopo 20 risultati utili consecutivi abbiamo fatto questi due sconfitti che ci hanno un po' spezzato le gambe. Oggi era importante vincere e l'abbiamo fatto per restare attaccati alla corsa play-off che è il nostro obiettivo. Obiettivo che il Barletta dovrà cercare di raggiungere domenica prossima in una partita a questo punto che vale quanto una finale. Brindisi, Barletta, ci proverete. Sì, è una partita fondamentale, vale tutta una stagione. Speriamo di fare bene perché il nostro obiettivo dall'inizio dell'anno era arrivare ai play-off. Dal primo agosto tutti quanti abbiamo lottato giorno per giorno per questo obiettivo e ce lo meritiamo tutti. Da punto di vista personale, oggi sei tornato in campo dal primo minuto. Come ti senti? Una buona prestazione? Sì, sono contento di essere tornato in campo dopo 6-7 partiti che non giocavo. Io oggi ho fatto il mio, sono contento della prestazione e ho fatto capire che comunque quando il mister mi mette in cambio ci sono e do sempre il mio. Un abbraccio particolare ad Alessandro Sanson. Sì, dedichiamo la vittoria al nostro portiere Sanson che purtroppo ha avuto un grave infortunio e resterà fermo molto tempo. Vogliamo dedicare la vittoria a lui.